Onorevole, avete dei dubbi sulle coperture per questi famosi 80 euro promessi da Renzi? Sì, sono coperture molto aleatorie, ci preoccupano molto. Basti pensare che una di queste si fonda sull'extragettito IVA che dovrebbe derivare dai crediti che la pubblica amministrazione paga alle imprese. Ma purtroppo le imprese, molte di loro, sono anche in difficoltà. Quindi questo non è che incentiverà immediatamente l'acquisto di beni e servizi. Invece il calcolo si è fatto come se immediatamente quei soldi che vanno alle imprese venissero spesi per l'acquisto di beni e servizi. Vorremmo che fosse così, ma abbiamo molte preoccupazioni che questo non avvenga. Altra parte di gettito consistente deriva da questa extratassazione che poi finalmente si sono decisi ad ammettere nero su bianco che avevamo ragione che deriverebbe proprio dalla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia. Cioè su quella rivalutazione invece di applicare l'attuale aliquota del 12 si applicherebbe il 26, quindi una ulteriore. Però quell'operazione lì, come noi avevamo evidenziato, è già nel mirino dell'Unione Europea e potrebbe anche essere considerata da annullare. E quindi cosa si fa? Si è preso un gettito fiscale in un'operazione probabilmente illegale? Che coperture sono queste?